Siamo magari abituati a pensare che l'autonomia sia la gestione dell'autonomia, cioè i rapporti con lo Stato, la gestione delle competenze, i rapporti finanziari. Sì, sicuramente questa è una parte importante, ma l'autonomia vera è quella che ha le nostre radici storiche, è l'essenza, è lo spirito di autonomia, è la ricerca dell'autonomia. Il Trantino aveva elementi di autogoverno ben prima dell'accordo dei Gasperi-Gruber, li ha avuti durante il Principato Vescovide e quindi ha una storia di autonomia che va al di là anche della quotidiana gestione che oggi c'è dell'autonomia. Questo dobbiamo spiegarlo ai giovani, lo vogliamo fare nell'occasione di questi 50 anni, lo vogliamo fare nell'euregio, anche con lo slogan che abbiamo coniato, l'euregio è giovane, perché l'autonomia è consapevolezza dell'autonomia stessa.